Amici, fratelli e sorelle, buona giornata a tutti e pace del Signore. Per me è un onore, un privilegio potermi ritrovare insieme a voi e condividere delle brevi riflessioni relative alla parola di Dio. Stamattina vi invito a considerare insieme a me i primi nove versi del capitolo nove degli Atti, dove troviamo raccontata la prima parte della conversione di Saulo, che poi nel proseguo del libro degli Atti sarà chiamato Paolo. Saulo era un uomo che aveva una profonda conoscenza della legge di Mosè, era cresciuto nella sinagoga, aveva avuto come maestro Gamaliele, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, e lui voleva in tutti i modi onorare Dio e pensava che la fede cristiana fosse qualcosa di eretico rispetto a quanto era scritto nell'Antico Testamento. Eppure avviene qualcosa nella vita di questo uomo, avviene un incontro che cambierà il percorso della sua vita, e questo incontro è quello che è l'incontro con Gesù che viene raccontato proprio in questi versi. Prima di dire questo e soffermarci brevemente su questo evento una breve considerazione sulla differenza che c'è tra la fede e la religione arida. La religione arida può portare ad azioni come quelle che Saulo compiva, persecuzione, violenza, tentativo di imporre le proprie idee. La fede invece porta a testimoniare di esperienze personali fatte col Signore e quindi non cerca di imporre ma propone la fede in Cristo. È vero che è scritto insiste in tempo e fuori di tempo, ma quello vuol dire che non dobbiamo mai scoraggiarci, e anche quando magari sembra non opportuno, ma c'è l'occasione, dobbiamo sfruttare quell'occasione per parlare di Cristo e dell'amore che Lui ha mostrato lì su quella croce, della necessità di ravvedersi, di convertirsi nei propri peccati. La fede si impone? No, si propone, abbiamo detto. Purtroppo la storia del cristianesimo, che a un certo punto divenne una religione come tante altre, è fatta di lotte, di guerre, di omicidi, di persecuzione. Questo ci fa capire quanto sia facile scadere dalla grazia, dalla fede, in una religione brutale delle volte. Che Dio ci guardi da questo. Parliamo di Gesù, proponiamo Gesù, invitiamo ed esortiamo e scongiuriamo le persone ad accettare la grazia di Dio, ma non andiamo oltre, perché non è questo quello che la parola di Dio ci chiede. Saulo invece imponeva la propria visione religiosa, per questo era consensiente alla lapidazione di Stefano, per questo ospirava minacce e straggi contro i discepoli del Signore, per questo si presentò al sommo sacerdote, leggo testualmente, chiese delle lettere per le sinagoge di Damasco affinché se avesse trovato dei seguaci della via, vale a dire dei cristiani, uomini e donne li potesse condurre legati a Gerusalemme. Avviene qualcosa, dicevamo prima. Paolo durante il viaggio, o meglio Saulo durante il viaggio, vede sfolgorare tutto intorno a lui una luce dal cielo e ode chiaramente una voce che gli dice Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo era caduto a terra e domandò chi sei Signore? E il Signore disse io sono Gesù che tu perseguiti. E allora Saulo tutto tremante e spaventato dice Signore che vuoi che io faccia? La risposta è alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Arriverà a manifestarsi uno stravolgimento nella vita di questo uomo, perché quell'incontro lo segnerà, lo segnerà per sempre. Lui da quel giorno sarà una nuova persona, i suoi sentimenti cambieranno, non lo vedremo più provare a imporre la sua visione, ma lo vedremo andare in tutto il mondo a praticare l'Evangelo, a desiderare di annunciare Cristo ad ogni creatura, ad ogni uomo, ad ogni donna. O quando si incontra il Signore la vita cambia, la vita viene trasformata, viene rigenerata e tutti quanti noi sperimentiamo quello che è l'amore di Dio e desideriamo condividere quest'amore con le altre persone. E quello che viene nella vita di Saulo che da persecutore diventerà perseguitato. Tutto nasce dall'incontro con Gesù. Ancora oggi noi predichiamo la necessità della nuova nascita, la necessità della rigenerazione. E la predichiamo perché è possibile ed è facile che ci siano delle persone che decidono di aderire alla religione evangelica. Lo è ancora di più possibile e facile per coloro che nascono in una famiglia che ha questa fede e decidono di aderire intellettualmente a questa fede e di farne la propria religione. Non ci sarà salvezza per nessuno che avrà fatto della fede evangelica e della propria religione. No, perché la salvezza viene da un incontro personale col Signore. Si deve passare sempre per il ravvedimento, per la confessione dei peccati. Si deve passare sempre, come diciamo noi solitamente, per la croce di Cristo. E Dio possa far sì che nelle nostre vite ci sia stata questa esperienza e che ci possa essere nelle nostre famiglie. Se abbiamo dei figli che sono nati nella fede cristiana, nel senso che gli abbiamo impartito gli insegnamenti della scrittura, preghiamo che quella parola che viene seminata nel loro cuore possa diventare un seme vivente che li porta a nascere di nuovo e a sperimentare la grazia con Cristo. È importante questo, è importante che le nostre chiese siano fatte da giovani, da anziani e da vecchi nati di nuovo, che sono quindi portati a vivere e ad ubbidire all'impulso della grazia e dello Spirito Santo del Signore. Il Signore lo dice chiaramente quello che deve fare e Dio ancora oggi lo dice chiaramente quello che dobbiamo fare. Dobbiamo seguire la via di Cristo e permettere al Signore di poter governare nella nostra vita. Sauro si alza da terra, è importante il fatto che sia caduto a terra, ci dà l'idea di un uomo che deve crollare sotto il peso delle proprie responsabilità e che si deve umiliare dinanzi a Dio. Umiliatevi sotto la potente mano del Signore, dirà Pietro, ed egli a suo tempo vi innalzerà, perché chi si abbassa sarà innalzato, ma chi si innalza sarà abbassato, perché l'occhio di Dio è posato su coloro che sono umili di cuore. Non dobbiamo aver paura di cadere sulle nostre ginocchia, non dobbiamo aver paura di crollare davanti al Signore, non dobbiamo aver paura di ammettere quello che siamo quando ci troviamo nel cospetto di Dio. Anzi, è la cosa più bella che si possa fare, perché quando riconosciamo il bisogno che abbiamo di Dio, allora Dio stesso sovviene alle nostre necessità. Il giorno che abbiamo davanti a noi è un giorno nel quale succederanno tante cose. Quello che è importante è che in tutte le circostanze Dio sia al nostro fianco e Lui lo sarà, lo sarà se lo invocheremo, se lo cercheremo e, qualora è necessario, se ci inginoccheremo per invocarlo e per chiedere il suo aiuto. Fratelli, sorelle, amici, coraggio, guardiamo al Signore, chiediamo aiuto al Signore e con l'aiuto suo ogni cosa la supereremo e alla fine di questa giornata, prima di chiudere gli occhi, diremo Signore grazie, sei stato fedele, non mi hai lasciato e non mi hai abbandonato. Che la pace di Dio, la sua grazia, il suo aiuto e la sua guida siano con tutti quanti noi. Dio ci benedica insieme. Dio ci benedica insieme.